Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Ci ho pensato a questa cosa che vi voglio dire Però alla fine lo voglio fare Vi voglio dire una cosa Nel mio canale c'è Le serie di GTA San Andreas Le serie di Dragon Ball Le serie di GTA V Adesso di Capitano Subasa Poi dei miei racconti Ci sono un sacco di serie Dei giochi mobile Che significa giochi da telefono Le Reaction La serie delle Reaction E tante altre cose Come vlog Pazzie Prove a non ridere con Dragon Ball Dopo tutto questo Un nuovo formato Si sta aprendo sul mio canale Il formato Max Avventure Si perchè per chi non lo sapesse Guardate cosa c'è qui La riconoscete cos'è Questa qua è una bicicletta Però purtroppo non posso fare i video con questa Perchè mi verrebbe troppo faticoso E poi dove la metterei Il telefono In bocca E faccio vedere il video No Purtroppo non posso fare i video A massimo però potrei fare tenere il telefono Il mio cugino like E vi faccio vedere tutto Però preferisco di no Devo essere più pronto per la bicicletta Però posso fare una cosa Possiamo portare dei video avventura Che noi tipo giochiamo tipo a giochi pazzi Io e like Oppure un mio cugino E lo chiamo questo formato Max avventure Certo ancora non ho deciso Se farlo oppure no Lo devo dire ancora a loro Perchè allora non l'ho detto Però ragazzi fatemi sapere Se volete Un video del genere Tipo abbiamo creato noi un gioco Che poi ne parleremo Fatemi sapere se volete Max avventure oppure no Ciao ragazzi Ciao ragazzi